Grazie, grazie per l'invito. Buongiorno a tutte e tutti. Io porto uno sguardo pedagogico su questo lavoro. Ringrazio anche per il lavoro e per questa presentazione in anteprima che mette in moto una serie di riflessioni pedagogiche che meriterebbero poi approfondimenti in vari filoni della pedagogia. Intanto due osservazioni sul titolo di questo convegno che mette in relazione l'equità nel sistema scolastico con strumenti per valorizzare le scuole. Ecco, in effetti il riconoscimento del principio di equità in pedagogia comporta tra il resto che le persone che sono responsabili di concepire o gestire i sistemi di apprendimento fino a preparare le lezioni, gestire le attività educative debbano fare ricorso a degli strumenti che permetano loro di analizzare i problemi educativi prendendo in considerazione quegli elementi suscettibili di influenzare in modo significativo i modi in cui i processi di insegnamento e apprendimento avvengano. Questo non è banale perché a volte si ha una visione omologante per cui strumenti di analisi sono considerati superflui oppure in certi casi addirittura un vezzo. Quindi si ha la presunzione di conoscere il problema e non l'esigenza di analizzarlo. Quindi gli strumenti in effetti non sono ancora patrimonio comune e quindi l'opera dell'invalsi nella produzione di strumenti è meritoria da questo punto di vista. Ancora bisognerà capire come favorire una maggiore penetrazione di questi strumenti. E poi il fatto di qualificarli come strumenti per valorizzare le scuole mi sembra importantissimo perché lo strumento poi va usato e sappiamo che uno stesso strumento può essere usato per scopi diversi. Nella presentazione prima si accennava ai rischi di categorizzazione, di classificazione, lo sappiamo anche per altri strumenti invalsi, uno per tutti le prove dell'invalsi. Quindi questo accento su strumenti per valorizzare le scuole esprime un preciso orientamento rispetto all'uso dello strumento che sottende a una postura proattiva, costruttiva e molto coerente con l'approccio pedagogico che annovera fra i suoi criteri proprio quello dell'intervento positivo. E quindi questi primi commenti sul titolo che sono anche un programma mi pare, cioè il titolo costituisce un programma. Ora, una sottolineatura che prelude alle considerazioni che farò sullo strumento. Il concetto di equità in educazione, che è stato richiamato anche all'inizio da Roberto Ricci, prende forma nell'interdipendenza tra questioni di diritto, cioè il tema della giustizia nella distribuzione dei beni educativi, e questioni di fatto i sistemi educativi e il loro funzionamento. Allora, la tensione tra questioni di diritto e questioni di fatto non è banale e non c'è un rapporto di causa-effetto, occorre quindi andare ad analizzare queste possibili interdipendenze e poi andare a vedere quali sono, come funzionano realmente. Accennava prima il professor Boeri al fatto che ci siano, per esempio, concentrazioni in certe istituzioni di tipologie di studenti. Questo ha a che fare davvero con le questioni di giustizia nella distribuzione dei beni educativi, che poi a cascata porta a, di fatto, una iniquità nella realizzazione degli obiettivi educativi. Allora, l'equità nei sistemi formativi è connessa proprio alla definizione della qualità necessaria in un determinato contesto. E anche questo non è banale, perché noi possiamo anche decidere al ribasso, lo si diceva all'inizio, come qualità necessaria quella dell'accesso al sistema formativo, che più o meno è realizzato ovunque. Ma la qualità necessaria oggi non si definisce solo in termini di pari opportunità di accesso, né di parità di trattamento, riguarda il successo formativo di tutte e tutti. E quindi la realizzazione in situazione di quello che in pedagogia chiamiamo il principio di educabilità. Livelli elevati di apprendimento per tutti e per tutti. Allora, se tutti sono educabili, se tutti e tutte hanno diritto ad un'educazione di qualità e lungo tutta la vita, è lo strumento che permette di andare a individuare quelle situazioni reali di iniquità e di potenziale moltiplicazione di questa iniquità, diventa davvero uno strumento di valorizzazione nella misura in cui si vede il contesto non come uno sfondo stabile, ma come un processo in via di trasformazione. E allora l'indicatore composito, è interessante che l'indicatore coinvolga fattori extrascolastici, e questo per noi pedagogisti è ovvio perché sappiamo, ci sono molti studi e ricerche, ma anche di altri ambiti disciplinari che mostrano i fattori extrascolastici che influiscono sui processi di insegnamento e apprendimento, ma il fatto di proporre un indicatore composito ha comunque una funzione di sensibilizzazione e di responsabilizzazione che è interessante nella misura in cui il contesto, non pensato come sfondo stabile, ma in divenire, va a sollecitare la trasformazione sociale che invoca quindi la responsabilità di tutti gli attori, perché se no cadiamo in modelli deterministici che sono tanto rassicuranti, ma che non corrispondono alla realtà dello sviluppo e della crescita delle persone. Quindi è proprio l'uso possibile dello strumento, quello su cui vorrei porre dei punti di attenzione. Vorrei proprio problematizzare questa cosa dell'uso dello strumento e farlo in termini di rapporto a mezzi fini, appunto, quindi lo strumento come mezzo, rapporto mezzi fini sia rispetto da un lato pedagogicamente un'epistemologia della pratica fondata sul principio di educabilità, quindi bisogna portare tutti a livelli elevati di apprendimento, ma anche rispetto alle politiche educative che si richiamano a un principio di equità e queste due cose vanno tenute insieme. Allora, per pertinenza concettuale mi colloco in un alveo che è quello dell'approccio inclusivo, lo richiamo molto rapidamente. L'approccio inclusivo è pensato come un processo di continua trasformazione di che cosa? Degli ambienti di apprendimento. Cioè, tenere in conto la diversità delle realtà di provenienza, di vita delle persone, la diversità delle loro caratteristiche, dei loro bisogni, per assicurare l'equità, ma attraverso una trasformazione dell'ambiente di apprendimento e non una trasformazione diretta delle persone, perché questo ci protegge proprio dal non scadere nel fatalismo o nella categorizzazione delle persone. E quindi, in sostanza, questo approccio inclusivo, che è quello della pedagogia universale, è incentrato sulla trasformazione della scuola, sul funzionamento della scuola. Ecco che allora l'uso di questo strumento per l'innovazione didattica parte proprio dal presupposto che è la scuola che va trasformata. Ma, mettendo l'accento su indicatori extrascolastici, si mostra anche che non basta trasformare la scuola, che questa trasformazione della scuola può portare a una trasformazione sociale. E quindi ribalta un po' questa idea che ci debba essere prima la trasformazione sociale e poi la trasformazione della scuola. Quindi ci mettiamo in un'ottica ecologico-sistemica, perché se no, a livello politico, il rischio è che si passi la responsabilità dagli uni agli altri, poi alla fine il cambiamento non avviene. E quindi, da questo punto di vista, la postura che individua delle dinamiche contestuali, il ruolo dell'ambiente, le interazioni nella costruzione del sapere, mette in evidenza come il contesto sia suscettibile di trasformazioni attraverso l'agentività umana. Quindi trasformiamo sì il contesto scolastico, ma non lo possiamo trasformare, non solo se non teniamo conto del contesto extrascolastico, ma se non trasformiamo simultaneamente anche il contesto extrascolastico. Quindi l'innovazione didattica in queste istituzioni, che possono essere individuate attraverso lo strumento, va pensata non solo per migliorare l'apprendimento degli allievi, ma per migliorare delle condizioni di vita, per esempio di un quartiere. E quindi va proprio vista nelle due direzioni. Credo che questo sia un punto di attenzione per evitare che l'analisi di contesto diventi un alibi per giustificare l'iniquità rispetto al successo formativo delle scuole, perché l'approccio tecnocratico, lo scadimento nel fatalismo è sempre dietro l'angolo e come dicevo prima è anche molto comodo dal punto di vista politico. E allora occorrerebbe accompagnare un po' questo utilizzo dello strumento, uscendo da una logica categoriale che rischia poi di creare degli stigmi e anche di far perdere la responsabilità agli attori istituzionali in un'ottica non solo di trasformazione della cultura scolastica e delle pratiche, ma proprio in un approccio inclusivo che trasformi l'intero territorio, l'intero contesto sociale e culturale. E quindi questo strumento è promettente, secondo me, perché oltre a considerare indicatori compositi nell'ottica di una responsabilizzazione esterna alla scuola, ha anche il pregio di individuare non solo singole scuole, come dicevate, ma di puntare alle reti di scuole, perché per fare una trasformazione che abbia esiti anche sul territorio non basta l'azione su una singola scuola, ma le reti di scuole possono portare anche quegli elementi di diversità e di eterogenità che danno sicuramente un contributo per superare il determinismo socioculturale ed elaborare dei criteri di azione pedagogicamente generativi nella varietà dei contesti comunque siano definiti. Quindi l'attenzione è volta a usare il dato come fattore descrittivo, che però è punto di partenza, non è un fattore esplicativo, questo per evitare la deriva tecnocratica. E infine, legittimare politicamente l'uso dello strumento diventa fondamentale per sostenere poi le azioni, perché ogni innovazione didattica comunque richiede risorse e non può essere pensata solo come innovazione didattica. e quindi può essere una leva di mobilitazione e di responsabilizzazione dei vari attori sociali. Ecco, per concludere quindi, se vogliamo permettere a ciascuno di convertire le risorse con la valorizzazione, che vengono dall'informale e dal non formale anche e portarle all'interno della scuola e poi farle transitare all'esterno della scuola, ecco, si può puntare davvero ad una scuola inclusiva e capacitante, capacitante nel senso di SEN, in modo che le risorse che vengono valorizzate entrino in un circolo virtuoso e non si pongano solo in maniera compensativa rispetto ai disagi e alle difficoltà riscontrate. E in questo senso, allora, l'educazione nella differenza, perché l'equità e l'uguaglianza nella differenza, si configura come un diritto della persona e questo sollecita un impegno pedagogico che porti a elaborare degli scenari educativi attendibili. Ecco che lo strumento è importante perché gli scenari educativi siano non solo potenzialmente efficaci, ma attendibili, che concretizzino le diverse forme di equità che possiamo negoziare e assumere nella nostra società. Quindi, aree di intervento non come sfondo, ma come materia viva, e bisognerà capire come ravvivarla, e usare questi indicatori per compiere degli interventi compatibili allo scopo però di allargare pedagogicamente le compatibilità per una scuola che sia realmente equa, inclusiva, capacitante, emancipante per tutti e per ciascuno in contesti che non solo sono ad alta complessità, ma sono in rapida trasformazione. Vi ringrazio.